Lo Stato batte un colpo. Dopo la ferita inferta alla scuola primaria di Stefanaconi, fatto oggetto di un incendio doloso che ha completamente distrutto un locale tecnico e compromesso buona parte dell'edificio, sul luogo del misfatto è arrivato il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone. Solidarietà e impegni da parte dell'esponente del Ministero di Viale Trastevere espressi direttamente al sindaco del piccolo centro vibonese Salvatore Di Sì, al dirigente scolastico Raffaele Vitale e a tutto il corpo docente. La priorità ora è il ripristino dei locali che avverrà anche grazie alla mobilitazione spontanea della popolazione, ma sul piano generale servono, è stato ricordato, dispositivi di sicurezza efficaci e attività extrascolastiche che riportino fiducia in una comunità che si è vista colpita al cuore. A questo segnale così brutto noi reagiremo immediatamente, intanto ho voluto essere presente proprio per testimoniare il fatto che si riparte immediatamente, che è attenzionata anche la scuola del più piccolo comune dal governo della Repubblica. Al tempo stesso con il prefetto, il sindaco, il questore, il comandante dei carabinieri stiamo avviando una serie di azioni che consentiranno a questa scuola di ripartire da un lato rispetto alla sicurezza e dall'altro lato anche rispetto a attività ordinarie che devono continuare andare avanti immediatamente. Fiducioso di sviluppi positivi si è detto il primo cittadino di Stefanaconi. Non ci sono frasi o parole per definire quest'atto criminale, perché si tratta di un atto criminale che specialmente le scuole che interessano la comunità, pure la comunità è rimasta scioccata. Colpire la scuola, colpire un centro di cultura e di legalità è una cosa tremenda.